Noi stiamo potenziando e amplificando i posti di terapia intensiva a tutti i livelli e su tutto il territorio. A partire dalle due principali che sono le aziende ospedaliere, quindi Terni e Perugia, per arrivare a idea di primo livello sul territorio e fino agli ospedali dedicati e destinati alla gestione dei pazienti infetti da coronavirus asintomatici. Stiamo percorrendo tutte le strade tenendo in buon conto quelle che sono le esperienze del Veneto e della Lombra.